Ciao da Simone, oggi voglio parlarvi di un'idea, di un concetto fondamentale, secondo me per la nostra crescita personale, professionale, per il nostro essere, per divenire di più. Cioè l'idea che il mondo esterno sia una conseguenza di come siamo, di come cambia il nostro essere, qualcuno direbbe della nostra vita interiore. Questo principio che trova spazio in realtà in ogni dimensione della natura, dell'essere, della fisica, della meccanica quantisia, di come funziona la natura, ci invita a riflettere profondamente sul modo in cui viviamo, nel modo in cui agiamo e ci relazioniamo con gli altri. Cioè questa idea che ciò che ci succede sia funzione di come siamo e non viceversa. Nel resonance process, nel modello di lavoro, di evoluzione personale e transpersonale che insegno e che utilizzo, l'idea al centro è proprio quella di trasformazione e non quella di cambiamento. Che differenza c'è fra questi, fra queste due parole che sembrano essere la stessa cosa. Il cambiamento è la necessità o la voglia, il fatto di cambiare qualcosa all'esterno di noi per poter stare, per poter cambiare noi. Quando sarò ricco sarò felice, per capirci. quando non ci sarà più quella cosa, allora potrò fare. Quando avrò una casa più grande, quando avrò una supercar, quando avrò due milioni di euro l'anno, eccetera, 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 eccetera. Allora sarò in questo modo, allora potrò permettermi di, allora avrò la possibilità di, allora io sarò. Quindi vedi, cambia qualcosa al di fuori di me e in funzione, come conseguenza di ciò che è cambiato fuori, cambio io, il mio essere cambia. Questo è un concetto che non, diciamo, non può funzionare. È quella che nel Resonance chiamiamo la posizione inibitoria. La necessità di cambiare qualcosa all'esterno per poter star bene noi. Nel processo Resonance sviluppiamo la qualità della trasformazione, invece. La qualità della trasformazione è esattamente quella opposta. Cambiamo noi e la realtà intorno a noi inizia a organizzarsi in funzione di come siamo noi cambiati, del nostro essere diverso e cambia in maniera misurabile, tangibile. Non cambia perché ci illudiamo che cambi, ma cambia proprio come funzione, come effetto di come siamo cambiati noi. Può anche non cambiare, ma siamo noi che ci navighiamo dentro in un modo completamente diverso e siamo capaci di trasformarlo. Molte delle persone spesso che vivono, che lavorano, che frequentano queste idee, questi spazi a volte dello sviluppo personale, che a volte tracima o si affaccia un po' nella cosiddetta spiritualità o a volte pseudo-spiritualità, usano questi concetti molto spesso per rifugiarsi in un mondo fatto di pseudo-illuminazione o di rifugio, di riparo dalla realtà e iniziano a vivere in un mondo di concetti abbastanza vaghi e di rifiuto della realtà, del denaro, delle cose materiali, di ciò che una volta volevano e che non sono riusciti ad ottenere. Invece trasformare la realtà da un punto di vista concreto vuol dire proprio questo. Vuol dire imparare a portare l'attenzione su quello che vuoi, imparare a leggere, a muoverti nella realtà con prontezza, con capacità di funzionare da una prospettiva generativa, cioè da una posizione in cui la tua attenzione su ciò che vuoi e utilizzi tutto quello che c'è nel mondo intorno a te, tutti i segnali dal sistema, tutto ciò che ti arriva dall'esterno come leva, come meccanismo, come tassello, come trampolino per cambiare, per avere di più, per avere la vita che vuoi, per ottenere ciò che vuoi. Non necessariamente ovviamente qualcosa di materiale ma la capacità di avere le esperienze che vuoi, la vita che vuoi. Perché ci sono nello stesso spazio, nella stessa realtà, nello stesso luogo persone che prosperano, che sono felici, che hanno tutto ciò che vogliono, ripeto, non in termini necessariamente materiali, hanno la vita che vogliono, sono felici e nello stesso dominio, nello stesso spazio, nello stesso contesto, magari nella stessa azienda, ci sono persone che sono infelici, che ragionano e filtrano il mondo dalla posizione in cui gli manca sempre qualcosa. Ecco, questa è proprio la differenza tra cambiamento e trasformazione. Cambiamento è devo cambiare qualcosa all'esterno di me perché io sia felice, cerco sempre qualcosa di nuovo, è la posizione inibitoria. Cioè, così come sono non vado bene, ho bisogno di qualcosa da fuori che mi faccia star bene ma soprattutto che mi riempia, che compensi delle mancanze o delle apparenti, perché l'essere è sempre infinito e pieno in sé, delle percezioni distorte di che mi manchi qualcosa e devo andarlo a prendere all'esterno, devo andare a cambiare all'esterno. E solo quando avrò raggiunto qualcosa, quell'obiettivo, quella cosa materiale, quella relazione, quella persona, quel traguardo, allora mi darò il permesso di sentirmi felice, completo, pieno, eccetera, eccetera. La trasformazione è diversa. Cambio io, cambio i miei filtri cognitivi, inizio a filtrare la realtà da una configurazione diversa, che è quella che nel resonance chiamiamo una configurazione generativa e in virtù di questa configurazione che è somatica, corporea e semantica, mentale allo stesso tempo, il mondo è lo stesso ma inizia a essere paradossalmente diverso. Inizio a vedere opportunità che prima non vedevo, inizio a riscrivere il modo in cui il mio cervello legge le cose e coglie le opportunità e inizio a muovermi nel mondo con un'efficacia che non ho mai sperimentato prima. Questa è una, dal mio punto di vista, quando l'ho sperimentata la prima volta e oggi che la insegno da 15 anni, è una specie di illuminazione al quadrato, al cubo, all'enesima potenza. La capacità di uscire dai racconti, dalle narrative spirituali che però spesso non lo sono davvero, cioè lavorano su una dimensione astratta che non tocca davvero l'essere ma tocca solo la parte mentale, la parte razionale, la parte che vuole rifugire dalla realtà perché è spaventata dalla realtà. La capacità di entrare dentro le cose, di entrarci pienamente con amore, con presenza, con penetrando la realtà, con penetrazione della realtà, entrarci dentro, in profondità, leggerla per quello che è e essere noi quelli che siamo davvero e iniziare a muoverci nella realtà con una prontezza, una capacità di ottenere risultati che non abbiamo mai sperimentati prima. Il resonance è una tecnica, è un processo, non è una filosofia, è qualcosa di molto pratico. Si concentra sul come piuttosto che sul perché, mira alla trasformazione pratica della persona. Richiede un approccio esperienziale e non solo intellettuale. Questo passaggio dall'intelletto, dalla mente all'esperienza a cogliere le cose per come sono è il passaggio fondamentale per persone, per chi vuole davvero trasformarsi, per chi davvero vuole ottenere risultati migliori. Qualcuno parla di amore, io parlo proprio di compenetrare la realtà, di andare dentro le cose, di fondermi con la realtà. La realtà, le cose, il contesto è una porta d'accesso a una realtà più profonda, per vederla per come davvero è. Ci lavoriamo attraverso un processo, attraverso tecniche, attraverso esercizi, attraverso meditazioni, attraverso il corpo, quella che ho iniziato a chiamare meditazione del corpo. Un processo che utilizza il linguaggio, la propriocezione e delle idee molto specifiche che hanno la capacità di portarti, di cambiare, di spostare delicatamente i tuoi filtri cognitivi e di farti entrare più nelle cose e questo è assolutamente un pezzo fondamentale del processo e della capacità di ottenere i risultati. Un altro pezzo, un'altra idea centrale del Resonance è che ognuno genera questa trasformazione in un modo specifico, è quella che chiamiamo appunto la posizione generativa, ognuno ha la sua. Il lavoro che facciamo è proprio quello di trovare, di estrarre, di far accedere ognuno nel suo modo specifico perché ognuno ha un suo modo specifico di entrare nella posizione generativa, di entrare nell'essere. Non c'è una serie di step uguali per tutti, sennò sarebbe un libro, sennò basterebbe un post su Facebook, invece c'è bisogno di lavorare con quella persona anche online, uno a uno, soprattutto in presenza, per estrarre, per capire qual è il suo modo unico che ha dimenticato e che conosceva quando era bambino, per essere, per essere pienamente, per abbracciare, per entrare nella realtà più pienamente possibile. E infine nel Resonance è centrale l'idea di gioco, la sperimentazione, si parte proprio dallo sperimentare, dal sentire le cose e quando sperimenti stai anche giocando. Non c'è l'errore, non c'è lo sbaglio, c'è ciò che senti e, ti dico una cosa forte, quello che senti è sempre corretto. Non c'è moralismo, non c'è giudizio, ecco, non c'è giudizio su quello che senti. Ciò che senti è ciò che senti, ciò che vuoi è ciò che vuoi e ciò che ti piace è ciò che ti piace. Il tuo essere è fatto anche di quelle cose lì, come di migliaia, come di milioni di altre cose. Quindi segnati questo concetto e vienici a trovare in uno dei prossimi seminari online, in presenza. Eliminare la dualità tra mente e corpo è la ricerca di tantissime tradizioni, di tantissime tecniche, di tantissimi approcci da millenni. Ma il fatto di avere a disposizione le scoperte linguistiche del linguaggio generativo, dell'embodied cognition, delle neuroscienze moderne, unite a tantissimi anni di studio sul linguaggio, sulla comprensione di come il linguaggio cambia la mente e cambia il corpo, e l'interazione tra linguaggio, corpo, mente, la capacità di accedere al proprio potere personale, alla propria creatività, e di nuovo utilizzando il linguaggio, questo è quello che rende questo processo davvero, davvero, davvero molto efficace, molto pulito, molto elegante, rimanendo molto neutro, senza la necessità di credere a niente, ma semplicemente credere a se stessi, credere al proprio corpo. Ecco, credi al tuo corpo. Un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video, vienici a trovare in uno degli incontri, o segui questo canale, iscriviti al canale, per ricevere i prossimi video. Un abbraccio, ciao, da Simone.